Pensavano di trovare vita facile per mettere a segno colpi e rapine nei piccoli paesi a cavallo tra la Romagna e le Marche, ma non avevano fatti conti con l'efficienza e la capilarità dei controlli dei carabinieri. Era il piano criminale di due uomini originari di Roma, vicini di casa di 70 e 35 anni, e aveva già iniziato a dare i primi frutti a maggio, con due rapine messe a segno alle poste di Sant'Angelo in Lizzola e alla filiale di Banca Intesa a Tavulia. 800 euro il primo bottino, quasi 25 mila euro il secondo, il filo conduttore dei due colpi le fascette in plastica, del tipo utilizzato da elettricisti e carpentieri che i rapinatori hanno utilizzato durante i colpi per immobilizzare dipendenti e clienti per poi dileguarsi nel nulla, commettendo però alcuni errori, nonostante il più anziano dei due sia una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Ma è bastata una traccia flebile per consentire ai carabinieri di ricostruire una pista che si è rivelata vincente. Un parente del rapinatore più anziano, infatti, da qualche mese ha avviato un'officina di riparazione auto nei pressi della zona industriale di Cattolica e dopo un controllo dello stesso ha iniziato un meticoloso lavoro di indagine portato avanti dal reparto operativo del maggiore Cosimo Lausta e dal nucleo radiomobile della compagnia di Pesaro. Una serie di pedinamenti e appostamenti che insieme all'analisi dei filmati e al lavoro del RIS di Roma, che ha decodificato un'impronta lasciata nel bancone della banca di Tavuglia, non ha lasciato a scampo ai due che mercoledì sono stati arrestati su mandato del GIP Francesco Messina e ora sono rinchiusi nel carcere di Rimini. I malviventi pensavano di operare in un territorio meno controllato dalle forze dell'ordine e in realtà si sono scontrati con l'efficienza e la capacità dei carabinieri. Sì, infatti gli abbiamo svelato con la giornata di ieri in cui poi i nostri militari si sono presentati per arrestarli nel territorio di Cattolica, gli abbiamo fatto diciamo comprendere quanto fosse sbagliato probabilmente da parte loro pensare che fare una rapina a Sant'Angelo in Lizzola o fare una rapina a Tavuglia ci potesse mettere in difficoltà. In realtà non è così perché noi consideriamo nello stesso modo con la medissima importanza tutto il territorio che ci viene affidato. Secondo i carabinieri anche in questo caso è stata molto importante la collaborazione dei cittadini che tra l'altro hanno potuto riconoscere direttamente gli rapinatori come testimoni. La collaborazione dei cittadini per noi è fondamentale, noi chiediamo sempre in tutti gli incontri soprattutto serali che facciamo con la cittadinanza in giro per tutti i comuni del territorio. Li abbiamo fatti e continueremo a farli nei mesi prossimi. Noi chiediamo sempre questa collaborazione che vuol dire semplicemente fornirci delle indicazioni, fornire delle segnalazioni su macchine e persone sospette che nel loro intuito e buonsenso che sono doti fondamentali che anche noi usiamo nel nostro lavoro possono destare sospetto per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali vengono avvistati.